A presentarci in modo simpatico e frizzante è il settore canto, la nostra ballerina fantasista Maria Alberta. Perché lo so che ormai non mi appertiene, guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore. Devi dirlo, questo tocca a te, ah si è scritto che lo perderò, come neve al sole si scioglierà un amore, prendi questa mano, zingara. Ma com'è la nostra Maria Alberta, veramente non brava, bravissima. Bravissima, giovanissima, talentuosa ballerina Showgirl, proveniente dall'Accademia di Monte Carlo, vanta un curriculum di tutto rispetto e per le sue caratteristiche è stata subito individuata come testimonial di progetto Donne Futuro. Sarà lei quindi che caratterizzerà tutta la serata con questi stacchetti personalizzati preparati appositamente per l'occasione. Come una grande professionista si è impegnata davvero al massimo per questo ruolo e saprà deliziarci con grazia e tanta simpatia. Un grande applauso per Maria Alberta che vorrei comunque qui sul palco con me in questo momento. Eccola qui che arriva, il microfono anche per Maria Alberta che è veramente bellissima e alla quale ovviamente chiederei se è contenta di essere testimonial di progetto Donne Futuro. Altro che, mi scuso perché sono un po' raffreddata, non ho questa voce normalmente. Comunque sono onoratissima di questa cosa, veramente, e mi sto divertendo tantissimo che è la cosa più importante. Più importante, sì. Questa opportunità che mi è stata data l'ho presa veramente seriamente e ringrazio ancora l'avvocato Cristina Rossello per avermi dato questa occasione. Ecco, so che in sala ci sono comunque delle persone che sono venute appositamente per te e quindi io ci terrei tantissimo ovviamente a fare un saluto ufficiale anche a tutta l'Accademia di Monte Carlo. Roland Vogel, Thierry Sette e Joelle Delbaricalla, merci d'être venuti ici, me soutenir e merci de croire en moi. Vorrei cogliere l'occasione anche per ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto per questo evento, che credono in me e che mi vogliono bene. Grazie. Brava Maria Alberta, grazie.